Dicembre superrottamazione di Natale, concessionari all'auto, a montagna in Valtellina. Nessuna introduzione di grandi novità, ma una revisione, o per meglio dire integrazione, della segnaletica orizzontale in prossimità dello svincolo di Cosio-Valtellino. Questo emerso dal vertice tenutosi oggi pomeriggio in prefettura, a Sondrio, per iniziativa di Giuseppe Mario Scalia, prefetto del capoluogo, alla presenza di Emanuele De Ciuceis, comandante provinciale dei Carabinieri, di Giuseppe Leo, vicequestore, di Alessandro Grattarola, comandante della postrada di Sondrio, e di Mauro Livolsi, suo parigrado di Lecco. Presenti anche il capo ufficio infortunistica della stradale di Lecco e il comandante della postrada di Bellano, competente per territorio sulla nuova statale 38 e sulla variante di Morbenio. Per Anas c'erano invece Mauro De Marchi, capocentro, e Luigi Micheli, caponucleo dell'azienda delle strade. È stato il prefetto, dopo aver invitato tutti ad osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime, ad aver evidenziato l'ottimo lavoro, come riporta una nota stampa, fino ad ora compiuto da Anas per le opere realizzate, e a suggerire un possibile loro perfezionamento, tale da rendere più efficace la sicurezza. A riferire circa le decisioni assunte, è il comandante della stradale di Lecco, Mauro Livolsi. Sono state fatte alcune proposte, più che altro integrative, diciamo di quella che è la segnaletica, che è già stata installata da Anas. In particolar modo si è pensato di poter indirizzare il traffico mediante degli occhi di gatto, che altro che non sono che delle luci che si trovano sul fronte stradale, in modo tale da poter essere più facilmente individuabile la strada da percorrere, nonostante effettivamente in questo momento, in questo istante, vi sia una zebratura, anche rumorosa, sul tratto che adesso è sensibile e attenzionato. Quindi questa è l'unica novità che introdurrete a breve? A breve sì, ulteriore proposta che è emersa l'eventuale installazione o di telecamere con tracciatura targa, ovvero sia degli autovelox. Dal canto suo, Anas ha rilevato che a fronte di un transito giornaliero di circa 20.000 veicoli non sono state al momento rilevate criticità nell'infrastruttura. Sempre dai partecipanti al vertice, è giunto l'invito al rispetto delle norme del codice della strada e in particolare dei limiti di velocità, che nel tratto a carreggiata unica sulla variante di Morbenio si attestano sui 90 km orari. Sempre raccomandate la massima prudenza quando ci si pone la guida dei veicoli.